Notiziario Adi, ben ritrovati, apriamo col sommario. Dedicata la nuova sede dell'Istituto Biblico Italiano, a Nettuno, grande festa nel nome del Signore. A Milano l'incontro dei giovani cristiani che con coraggio e fede vogliono rivoluzionare il mondo nel nome di Gesù. Si chiama svolta il progetto giovanile a cura del Consiglio Generale delle Assemblee di Dio in Italia per la promozione di attività in favore dei più giovani. E dopo il sommario parliamo subito dell'Istituto Biblico Italiano e del culto di dedicazione della nuova sede di Nettuno, dove centinaia e centinaia di partecipanti si sono riuniti per celebrare il nome del Signore. 14 maggio 1961, una data storica, anzi memorabile per la popolazione evangelica italiana, perché in quel giorno fu dedicata al Signore una struttura unica nel suo genere per il panorama pentecostale della nazione. Veniva inaugurata in via Prenestina la sede dell'Istituto Biblico Italiano. In quella che allora era considerata solo una zona periferica quasi scomoda della città capitolina, cominciarono a confluire da tutta Italia giovani desiderosi di consacrare il proprio tempo allo studio della Bibbia, alla preghiera e allo sviluppo del carattere cristiano. Anno dopo anno le attività svolte in quella struttura videro un numero sempre maggiore di partecipanti, che costituirono un patrimonio prezioso per lo sviluppo dell'opera di Dio nella nazione. Tra le centinaia di studenti infatti moltissimi sono diventati ministri di culto, collaboratori attivi nelle comunità locali, monitori della scuola domenicale e missionari. Ma questa è storia e la storia deve servire a comprendere le necessità e le scelte del presente, che con il crescere delle necessità, delle attività e delle aspettative nell'evangelizzazione nazionale ed internazionale, ha portato il Consiglio Generale delle Chiese e l'Assemblea Generale dei Pastoriadi a promuovere oggi come allora un coraggioso passo di fede. 14 maggio 1961, 30 settembre 2016. A distanza di 55 anni da quella dedicazione, la sede dell'Istituto Biblico Italiano si è spostata in una nuova e più ampia location di Nettuno, con un culto di apertura aperto a tutti, durante il quale celebrare il Signore per la sua fedeltà. 30 settembre 2016, un giorno di festa. Proprio così, un giorno nel quale i cuori dei circa 700 presenti a corsi da ogni dove si sono uniti in uno stesso sentimento per imboccare un nuovo percorso di fede, per permettere ad un numero più ampio di studenti di cercare il Signore e comprendere la sua volontà per la loro vita. Una vera e propria palestra spirituale dove far crescere non solo la conoscenza ma il desiderio di essere utili in ogni modo, grazie anche ai percorsi di formazione che prevedono, oltre allo studio in una struttura certamente più comoda, anche attività pratiche. Il Consiglio Generale, il Corpo Insegnanti, i responsabili di alcune opere con sorelle all'estero e tanti, tantissimi credenti e simpatizzanti hanno gremito le sale preparate per l'occasione. Una nella quale poter prendere parte al culto in prima persona e l'altra limitrofa per partecipare in videoconferenza con l'esaurirsi dei posti. Ed è così che, fin anche dietro le finestre aperte, i presenti hanno colto il momento considerando la data come un giorno memorabile, a distanza di 55 anni dall'ultima volta che una sede del genere era stata dedicata al Signore. A presiedere la riunione il direttore dell'IBI Vincenzo Specchi e dopo l'intervento del presidente A di Felice Antonio Loria e dei rappresentanti di altre opere pentecostali è stato dato ampio spazio alla predicazione della parola di Dio, affidata al pastore Greg Mandis, responsabile delle missioni estere delle Assemblies of God. Un clima di gioia, commozione, interesse ed entusiasmo, con uno sguardo al futuro in attesa del ritorno di Gesù, prima del quale studiarsi per essere pronti alla chiamata divina. Per la particolarità dell'evento il notiziario Adi dedicherà un prossimo numero speciale proprio all'Istituto Biblico Italiano. E ci trasferiamo a Milano, cambiamo argomento. Si è tenuto un incontro giovanile dal tema Dio non è vecchio nei locali di Via delle Forze Armate, ma i particolari. Seguiamoli nel servizio. Dio non è vecchio. Questo è stato il tema affrontato durante l'incontro giovanile della zona Lombardia. La sede è stata quella della comunità Adi di Via delle Forze Armate a Milano. E così il 24 settembre centinaia di giovani si sono riuniti già alle ore 15 per trascorrere un pomeriggio alla presenza di Dio. A dare il benvenuto ai partecipanti da parte del comitato di zona Lombardia è stato il pastore della chiesa ospitante Elio Varicchione, il quale ha incoraggiato i giovani ad avere delle ambizioni spirituali circa il loro servizio a Dio, così da poter cambiare il mondo attraverso l'annuncio del messaggio dell'Evangelo. La riunione è stata poi presieduta dal pastore Franco Spina, il quale ha guidato i presenti all'adorazione con la partecipazione musicale di Nico Battaglia, giovane cantante cristiano collaborato da due musicisti. Predicatore ospite per l'occasione è stato il giovane missionario dell'Assemblea di Dio, Denton Curtis, il quale attraverso lo studio biblico ha parlato degli incessanti cambiamenti che le generazioni di oggi stanno vivendo a livello umano, sentimentale e spirituale. È stato sottolineato quanto, nonostante le popolazioni cambino costantemente stile di vita, cultura e tradizioni, la natura umana sia uguale in tutto il mondo e per tutti i tempi. Migliaia di anni fa, come oggi, l'uomo è alla ricerca di accettazione dalla propria comunità, cibo, sicurezza, amicizie e amore. Per questo motivo la Bibbia è l'unico libro nel mondo che, nonostante sia stato scritto in tempi oramai remoti, in una cultura particolarmente distante da quella occidentale, rimane pertinente per i bisogni di tutti i popoli del mondo. L'incontro è proseguito nel pomeriggio dopo una breve pausa con un culto offerto al Signore durante il quale, attraverso la predicazione della parola, si è continuato a incoraggiare i presenti nella consagrazione e nella fede. Diversi giovani hanno risposto all'appello per la salvezza, dimostrando il loro desiderio di accettare Gesù come loro personale salvatore. Durante la giornata sono inoltre state anticipate delle iniziative promosse dal Comitato di Zona Lombardia, che verranno messe in atto a favore dei giovani nei prossimi mesi. E facciamo ancora un passo in là. Parliamo di un progetto che si sta sviluppando in favore proprio dei più giovani. Parliamo del progetto svolta a cura del Consiglio Generale delle Chiese Adi, ma seguiamo il servizio per i particolari. Saved Date è un'espressione tipica al tempo del Web 2.0 con la quale si invitano amici, conoscenti o semplici curiosi a segnare una data specifica in vista di un appuntamento importante. E proprio pensando al countdown di un lancio coinvolgente, come quello di uno shuttle, ci si prepara la data da segnare nel calendario dei più giovani. Domenica 30 ottobre alle 12 circa, durante il 41esimo incontro nazionale giovanile ad Ibi a Fiugiterme, sarà dato ufficialmente il via a un progetto nazionale delle Assemblee di Dionitalia che riguarderà l'universo giovanile, compresi gli adolescenti. Oggi i giovani cristiani affrontano le sfide più grandi del nostro secolo, crisi economiche e morali, conflitti sociali, ateismo, scientismo, secolarismo, iper-sessualizzazione e molte altre tendenze che si intrecciano all'interno di una società che cambia di continuo, ad una velocità che non ha precedenti nell'intera storia umana. Questa generazione di giovani vive in ambienti spesso ostili o indifferenti al messaggio dell'Evangelo ed è chiamata sempre con maggiore impegno a rispondere della propria fede in Cristo. Ha bisogno quindi di essere sostenuta, incoraggiata e alimentata da un sano e profondo insegnamento della parola, entusiasmata e potenziata dallo Spirito Santo. Tutti i giovani cristiani devono potersi sentire uniti, consapevoli delle proprie potenzialità e responsabilità, incoraggiati dalla preziosa eredità dei credenti che li hanno preceduti. E non a caso il lancio di nuove attività, incentrate proprio sui giovani, ricade nel mezzo dell'incontro nazionale rivolto a questi, dal tema Siate pronti. Con la consapevolezza di questi bisogni, nel 2015 il Consiglio Generale delle Chiese Adi ha approvato la formazione di una commissione composta di pastori con lo scopo di organizzare lo sviluppo delle attività giovanili delle Assemblee di Dionitalia in collaborazione con gli stessi giovani delle nostre chiese, con progetti che si svilupperanno già nei primi mesi del 2017. C'è grande attesa per conoscere di cosa tratti questo nuovo progetto, ma si dovrà attendere il 30 ottobre per scoprirlo appieno. Intanto per rimanere aggiornati sui progressi si possono seguire i canali social di svolta. L'invito è quello di continuare a pregare per i giovani cristiani e per questi progetti, ricordando che lo scopo di queste iniziative è quello di incoraggiare queste generazioni a rispondere al grande mandato trasmessoci da Gesù, predicare il messaggio della salvezza ovunque e a chiunque, ricordando quello che dice la Bibbia proprio a questi. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 14. Grazie per essere stati con noi e al prossimo numero. Grazie per aver guardato il video.